Salve a tutti amici, in questo video vediamo come completare la missione preghiera del viandante su Diablo 4. Arriveremo in questa area cerchiata di azzurro e capiremo che questo ha a che fare con la missione e ovviamente dobbiamo pregare davanti a questo santuario. Ma come fare? Come fare a porgere i ringraziamenti? È molto semplice ma non è magari intuibile da subito, bisogna aprire il cerchio dei ringraziamenti o comunque della chat. Come fare? Con il pc bisogna premere E, tenere premuto E. Ecco qua, vedete qua c'è ciao eccetera eccetera, bisogna scorrere fino ad arrivare a grazie. Eccolo qua. Ed ecco fatto. Con il controller dovrebbe essere su per aprire questa ruota, comunque controllate e prima o poi ce la farete ed abbiamo completato la missione. Spero di essere stato d'aiuto, ci vediamo al prossimo video.